Il portale di Dalet non si vede, si ascolta, si annusa, si sente, si vive. Per noi la scuola Dalet è stata un'ancora di salvezza in questo particolare periodo storico. Devo dire che questo corso mi ha trasmesso una grande energia ed è proprio vero che è nei momenti di maggiore crisi che si creano le opportunità per crescere, per progredire, per evolvere. Ho aperto la porta, ho fatto un viaggio dentro di me, i miei compagni di viaggio erano lì per me e io per loro. Ci ha fatto sorridere tanto e ci ha fatto conoscere delle persone speciali. Ed è bellissimo, perché questo primo anno sulle 5 leggi biologiche mi ha proprio dato la conferma della meraviglia che siamo e di quanto il rispetto per noi stessi sia importante per una buona salute. E ci ha fatto conoscere Akhi Cesira, un grande medico che con tanta passione ci ha parlato della biologia del sintomo e tramite il non detto ci ha aperto il Dalet della nostra anima. E grazie Matteo per le chiavi per entrare in Dalet, in questo portale che proprio ti catapulta in una realtà meravigliosa, la vera verità, dico io. Quel gigante che tutti chiamano malattia non mi fa più paura. E né lui e né quell'altro fantasma che gira per le strade e che salta addosso a tutti gli sfigati della vita. Devo dire che vedo con molti diversi e vivo in maniera più serena la vita anche grazie a voi e a questo corso. Mi sta dando risposte a tante domande alle quali non ero mai riuscita a rispondere e mi sta aiutando a conoscermi, a capirmi, che è difficile perché sono femmina, sono mancina. Donna col tacco, vuoi adè? Un grazie particolare a Matteo, un grazie particolare a Pamela che ci è stata molto vicina anche lei. E possiamo dire di aver trovato una nuova famiglia, la nostra famiglia futura, noi per loro ci saremo sempre, come speriamo anche loro per noi. Al massimo mi viene cancretto ciò, con la R della Pellegrini e quindi vi abbraccio tutti e al massimo ci incroceremo l'anno prossimo perché mi sono iscritto al secondo anno, andiamo avanti con questo percorso a crescere tutti insieme. Siete come una famiglia per me. Grazie. Grazie Matteo, Pamela, Francesco Immensamente grata Dalet